Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura l'attesa per il nuovo decreto con le misure restrittive che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 7 di aprile. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio c'è l'abolizione eventuale delle zone gialle. Contrarie alcune regioni tra cui l'Abruzzo per il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio sarebbe una ingiusta persecuzione dopo mesi di sacrifici. Vediamo il servizio. E' attesa per oggi la decisione sull'eventuale abolizione delle zone gialle in Italia. Il Consiglio dei Ministri in programma nel pomeriggio si annuncia infuocato perché all'interno del governo Draghi si scontreranno due anime. Quella dei cosiddetti aperturisti capitanati dalla Lega e quella dei rigoristi con in testa PD e 5 Stelle. Il Consiglio dei Ministri odierno infatti è chiamato a varare il nuovo decreto anti-Covid che entrerà in vigore il 7 di aprile fino a fine mese. Se per le scuole, dopo le parole del Premier Draghi, sembra ormai certa una riapertura blindata anche in zona rossa, unico lusso secondo il Presidente del Consiglio che l'Italia in questo momento può permettersi, per quanto riguarda le attività commerciali il dibattito è tutt'altro che finito. La Lega vorrebbe un automatismo che consenta al di sotto di un RT pari ad uno per una settimana di riaprire e tornare ad una quasi normalità di vita, prospettiva che però spaventa CTS e Ministero della Salute. Le regioni spingono per allentare le restrizioni sulla base dei dati e a questo partito si iscrive il Presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, secondo il quale sarebbe una vera e propria persecuzione per l'Abruzzo restare confinato in zona arancione nonostante i dati da zona gialla. Ci penalizza perché noi questa è già la seconda settimana in cui avremmo dovuto registrare il giallo come regione, quindi riaprire bar e ristoranti fino alle 18 per mettere la mobilità all'interno di tutta la regione e così via. Non è accaduto, adesso che c'è l'intenzione dopo Pasqua, quando si poteva riaprire, di continuare a tenere chiuso per altre 4 settimane, lo ritengo una ingiusta persecuzione nei confronti di alcune categorie che per pregiudizio devono restare chiuse. È vero che ci sono tante regioni, come ricordava ieri il Ministro Speranza, ancora in rosso e che circa 40 milioni di italiani vivono in zona rossa, noi siamo arancioni, ma soprattutto nessuno contesta il fatto che chi sta in rosso ci debba rimanere fino a quando non calano i contagi. È quello che è accaduto a Pescara, a Chiedi, all'area metropolitana che abbiamo sottoposto a misure restrittive per questa ragione. Ora che i contagi sono calati, credo che sia corretto nei confronti dei cittadini e delle aziende rispettare quell'impegno, quel patto e cioè che quando i contagi calano si lavora, si apre, quando salgono si sta tutti insieme ad accettare le regole, ad adottare restrizioni. Adesso andiamo a Montesilvano, al Pala di Martin, si sta portando avanti la campagna vaccinale che coinvolge i disabili e i superfragili per il neoassessore del comune riverasco Santa Venere. Questa è una priorità dell'amministrazione. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Dalle 5 marzo la città di Montesilvano ha avviato la campagna di vaccinazione anti-Covid al Pala di Martin a diverse categorie ed è stata finora un vero e proprio punto di riferimento per tutta la regione. Numeri importanti per la terza città d'Abruzzo che ha somministrato in meno di un mese 8.430 vaccini così suddivisi, 5.630 al personale scolastico della provincia di Pescara, 2.433 agli ultraottantenni, 396 ai volontari della protezione civile, 72 alle forze dell'ordine, 116 ai vigili del fuoco e 39 ai volontari di Croce Rossa, Associazione Nazionale Carabinieri e COC. Inoltre è iniziata la vaccinazione a 340 persone disabili e ai loro cargiver, un atto quest'ultimo fortemente voluto dall'amministrazione comunale, come spiegano gli assessori Santa Venere e Cilli. Con oggi raggiungeremo la cifra di 340, anche i cargiver sono stati ovviamente vaccinati. Devo dire che il clima è stato abbastanza tranquillo e sereno. Ieri si è anche vaccinato Claudio Ferrante, che quindi è dato anche un esempio di un approccio sereno al momento e questo ha anche aiutato ovviamente tante persone a stare tranquille in un momento che comunque alla fine ha il suo valore aggiunto, perché insomma ridà un po' di libertà. Oltre ai disabili ci sono rimasti dei professori che erano rimasti indietro per dei vari motivi personali, quasi tutti. E niente, andremo avanti sperando che la ASL riesca ad aumentare il numero dei vaccini. Noi siamo a disposizione, la ASL già lo sa e sa che siamo in grado di riuscire a vaccinare anche molte più persone di quelle che stiamo facendo adesso. La nostra speranza sarebbe prima dell'estate sicuramente di chiudere gli over 70, chiudere tutte le persone fragili e sperando di poter scendere ancora più in giù con l'età anagrafica. Questa, ripeto, è la nostra speranza. Il piano della regione comunque va in questa direzione, quindi speriamo che con l'arrivo dei vaccini si possa cercare di proseguire in questa linea. E a proposito delle vaccinazioni, riordinare e semplificare le procedure diverse che si sono succedute tra i due piani vaccinali nazionali relativamente ai caregiver. L'obiettivo della nuova piattaforma telematica regionale riservata proprio ai caregiver e ai familiari conviventi dei disabili gravi che entra in funzione oggi sul portale sanità.regione.abruzzo.it. Dallo scorso 18 gennaio, spiega l'assessore alla salute Nicoletta Veri, le linee guida nazionali sulle vaccinazioni che si sono susseguite hanno creato alcune difficoltà per l'adesione dei caregiver. Ci sono stati ad esempio ultraottantenni con disabilità che si erano iscritti alla piattaforma solo per età e senza indicare il motivo, il nominativo scusate, del soggetto che si prende cura di loro. Da qui la decisione di procedere ad un riordino dei dati, all'apertura di una piattaforma per le manifestazioni di interesse specificamente dedicata. Il servizio regionale Sanità Digitale ha proceduto alla verifica di tutti i dati dei caregiver già iscritti allo sportello telematico trasferendoli alla nuova piattaforma. Chi dunque aveva già aderito non deve, si legge nella nota della regione, iscriversi nuovamente e può verificare che la procedura sia andata a buon fine semplicemente inserendo i propri dati sul portale dedicato. Il caregiver può iscriversi alla piattaforma utilizzando il suo codice fiscale e il suo numero di tessera sanitaria completando la domanda con il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona di cui si prende cura. È possibile accedere anche con il solo codice fiscale, ma in questo caso dovranno essere compilati manualmente tutti i campi richiesti. Andiamo avanti ancora con la campagna vaccinale. Adesso andiamo a vedere come proseguono le inoculazioni del siero anti-covid nella provincia pescarese e in particolare a Scafa. Proseguono le vaccinazioni in Val Pescara. Siamo a Scafa con il primo cittadino Maurizio Giancola. Tanti vaccini sono stati fatti negli ultimi giorni anche nel vostro centro. Tanti ne verranno fatti nei prossimi giorni. Qual è la situazione? Noi abbiamo già provveduto a vaccinare tutti gli ultraottantenni. Quindi abbiamo vaccinato oltre 300 persone. Abbiamo provveduto anche all'effettuare il richiamo per il primo nucleo e il prossimo 10 di aprile, quindi sabato dopo Pasqua, provvederemo a chiudere il cerchio degli ultraottantenni con il secondo richiamo per il secondo gruppo. Successivamente partiranno le vaccinazioni come da istruzioni della ASR per le altre fasce di età. Ovviamente il personale scolastico è stato vaccinato direttamente a Pescara attraverso i percorsi pensati e ideati dal Ministero. Sicuramente il 6 di aprile, se i dati sono nella tendenza attuale, ci consentiranno di riaprire le scuole in totale sicurezza. Sindaco, vaccinazioni, tamponi, tutto quello che è stato fatto in questi 14 mesi è stato coordinato da un comitato tecnico scientifico che voi avevate istituito nel mese di febbraio del 2020? Esattamente. Ancora prima che la pandemia raggiungesse i livelli di guardia che abbiamo vissuto, noi avevamo istituito presso il nostro comune un comitato tecnico scientifico alla presenza ovviamente dei comandanti della Polizia Municipale, del comandante della Stazione dei Carabinieri, dell'Avis, della Misericordia e della Cooperativa Manitese che gestisce le nostre politiche sociali, la dirigente scolastica e poi ovviamente le figure istituzionali, anche un medico presente all'interno del nostro Consiglio Comunale. Noi abbiamo iniziato a novembre del 2020, quindi dell'anno scorso, e abbiamo effettuato quattro sessioni di tamponi rapidi per testare la cittadinanza. Nella prima fase l'iniziativa è stata del comune di Scafa in autonomia, abbiamo acquistato un primo lotto dei nuovi tamponi antigenici che erano appena andati in commercio nel mese di ottobre. In quella prima fase abbiamo organizzato quattro giornate con 310 test. Oggi abbiamo una situazione buona, abbiamo solo circa 16 positivi, questo ovviamente non è il frutto del caso, bensì anche di una certa azione di prevenzione che è stata fatta sul territorio. Adesso una notizia di cronaca, un operaio di 58 anni, Antonio Cavallucci, è morto in un incidente sul lavoro che è avvenuto in provincia di Potenza. L'uomo, originario di Caramanico Terme, per circostanze ancora da chiarire, si è ribaltato con l'escavatore mentre stava eseguendo dei lavori lungo la strada Tito-Brienza, rimanendo schiacciato. L'escavatore è infatti scivolato da un'altezza di circa 30 metri. Da una prima ricostruzione l'incidente sarebbe avvenuto per un cedimento del terreno dove stava lavorando, proprio con l'escavatore. A seguito di questo incidente, Will e CGL hanno proclamato per la giornata di oggi uno sciopero di otto ore. Nel comunicato diffuso dai sindacati è evidenziato che l'operaio stava svolgendo dei lavori esterni alla galleria su un mezzo meccanico di cui ha perso il controllo per via di un cedimento del terreno su cui stava lavorando. Andiamo avanti ora e parliamo dell'IZS. Dopo anni di nomini abruzzesi, lo zoo profilattico caporale di Teramo sarà a guida molisana. Il CDM, scusate, il CDA ha infatti nominato come presidente il designato dalla regione molise Alfonso Catone. Immediata la reazione polemica del consigliere regionale abruzzese Sandro Mariani che attacca l'amministrazione di centrodestra. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Il CDA dell'Istituto Zoo Profilattico dell'Abruzzo e del Molise, Giuseppe Caporale, ha designato come presidente l'avvocato Alfonso Catone. Molisano, consigliere comunale a Venafro della provincia di Sernia e rappresentante della regione molise, Catone sarà alla guida dell'IZS dopo anni di nomine abruzzesi. I membri del consiglio di amministrazione dell'ente sono tre. C'è oggi Alfonso Catone come presidente, la rappresentante del Ministero della Salute Gaetana Ferri e il designato della regione Abruzzo Enzo Pietro Di Giulio, il veterinario rosetano che aveva fatto ricorso e vinto al TAR contro la nomina di Davide Calcedonio Di Giacinto. Immediato il commento polemico del consigliere regionale Sandro Mariani che rivolge i più sentiti complimenti alla maggioranza di centrodestra che guida l'Abruzzo che, scrive Mariani, dopo averci regalato un governatore romano è riuscito a fare leggere dopo 30 anni anche un presidente molisano per il CDA dell'IZS Caporale. Evidentemente, conclude Mariani, in Abruzzo non c'era una figura all'altezza, un professionista, perché no, un veterinario, che potesse ricoprire un ruolo così importante in una realtà come l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, da sempre fiore all'occhiello per questa regione e autentico vanto a livello nazionale ed internazionale per il teramano. Adesso andiamo al porto di Pescara. La pandemia ha aggravato la situazione già difficile per gli operatori portuali. Ai problemi annosi legati al dragaggio si sono sommate infatti le restrizioni alle attività per effetto del Covid. Gli operatori commerciali chiedono sostegno immediato. Vediamo. Il porto commerciale di Pescara sta morendo. Basti pensare che l'ultima nave cisterna è attraccata nel 2016. Una situazione paradossale che ha messo in ginocchio le attività collegate allo scalo portuale pescarese che per ripartire avrebbe bisogno di un dragaggio urgente e dei lavori relativi al piano regolatore portuale. E intanto le ditte danneggiate dal fermo delle attività aspettano ancora il 50% dei ristori previsti dalla legge regionale 44 del 2016. Anche le opere previste dal piano regolatore non porteranno alla ripresa del traffico merci o passeggeri del porto di Pescara perché qui l'unica cosa che va fatta con estrema urgenza è un dragaggio perché le banchine commerciali, la banchineria, la banchina elevante attualmente avranno sì o no un pescaggio di un metro, un metro e mezzo. Quindi capiamo benissimo che è impossibile l'ingresso e l'uscita da qualsiasi unità navale destinata o al traffico merci o al traffico passeggeri. Nelle settimane scorse si era paventato il ritorno di un collegamento con la Croazia ma in questo stato di cose, in questa situazione è possibile parlare di nuovo collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico? No, non ci sono assolutamente nere condizioni logistiche e dobbiamo considerare anche che istituire un collegamento passeggeri comporta tutta una serie di procedure dal punto di vista della security che qui a Pescara andrebbero rifatte da zero anche perché adesso c'è la competenza dell'autorità di sistema portuale che fa capo ad Ancona, l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale e quindi dovremmo anche sperare in una rapida attuazione di queste procedure e sono i piani di sicurezza che vanno rifatti, quindi assolutamente non è proprio pensabile che quest'estate si possano riprendere i collegamenti passeggeri per l'altra sponda dell'Adriatico o per qualsiasi altra destinazione internazionale. Ed ora siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Venerdì torna il campionato con il Pescara che sarà impegnato nel match interno all'Adriatico-Cornacchia contro il Pisa dell'allenatore pescarese Luca D'Angelo. Biancazzurri che devono fare assolutamente bottino pieno mentre sulla sponda opposta il tecnico nerazzurro ospite della trasmissione Replay ha analizzato il momento dei Toscani in lotta per un posto playoff. Fischio di inizio fissato alle ore 17, arbitra Pasqua di Tivoli, assistenti Muto e Avalos, quarto uomo amabile. Il servizio. Io credo che il binomio che si è creato tra me e la società innanzitutto sia stato frutto dei risultati che abbiamo ottenuto, che possiamo girarci attorno. Ovviamente la conoscenza reciproca tra me, il direttore generale, il direttore sportivo e il presidente è cresciuta nel tempo e nei momenti di difficoltà loro hanno visto probabilmente, questo andrebbe chiesto a loro che a me, che il lavoro che veniva svolto durante la settimana era sempre molto propositivo, volte poi i risultati possono venire o meno, ma ho sempre sentito la classica fiducia incondizionata dalla parte della società. Sarà una partita dura, nel senso che Pescara cercherà il massimo risultato. Anche noi però faremo lo stesso e vediamo alla fine chi l'avrà vinta. Per quello che riguarda la classifica, che specchia abbastanza probabilmente delle squadre pronosticate ai play-off o per la vittoria finale del campionato, ma è un po' attazzato il Frosinone e al posto del Frosinone probabilmente è entrato in Venezia, nel senso che all'inizio stagione non si pensava che si potesse trovare in quella posizione di classifica. Però c'è tempo per recuperare il Frosinone. Noi l'anno scorso non siamo andati ai play-off per la classifica Puzza con Empoli e Rosinone, abbiamo fatto gli stessi punti però, avevamo una classifica Puzza peggiore e siamo usciti. Quest'anno non siamo vicinissimi perché siamo a 4 punti dal Chievo, con una partita da recuperare. Credo che la cosa migliore per noi sia quella di non stare troppo lì a guardare quelli che sono i risultati, ma giocare anche a partire. Il Pescara è Pescara, città, mi sono sempre nel cuore. La mia famiglia vive a Pescara, mia moglie, le mie figlie, mia mamma, mio fratello, tutti i parenti io vi ho a Pescara. Appena posso torno immediatamente a casa, perciò Pescara è casa mia. Per quello che riguarda un giorno poter allenare il Pescara, non mi potrei tirare indietro in futuro quando la mia avventura Pizza sarà terminata, perché ripeto, il Pescara rimane sempre una società, a mio avviso, in una piazza importantissima. La Lega Pro, il vicepresidente di Lega, Marcel Vulpis, è intervenuto ieri sera nel corso della trasmissione ProTeramo, ha parlato della probabile rimodulazione dei gironi e ha anche commentato le recenti esternazioni del presidente del Teramo, Franco Iachini, che aveva definito la sua squadra una banda di morti. Sentiamo. La riforma dei campionati chiaramente parte dalla guida e dalle idee che avrà in tal senso il presidente Gabriele Gravina, a cui la Lega Pro già nel precedente mandato, pochi mesi prima delle nuove elezioni, quindi dell'ultima assemblea elettiva ordinaria, ha dato il mandato per guidarci verso questa riforma che si attende da 60 anni e che si ritiene possa essere portata, non dico in tempi rapidi perché direi un'eresia, ma sicuramente nei tempi giusti. Credo che Gravina, il nostro presidente, abbia la qualità, la visione di scenario e la forza per poter finalmente dire che sono stato io il presidente che ha fatto la riforma dei campionati e non del campionato, quindi non solo della Lega Pro, ma dell'intero sistema, a 60 anni da questo mantra che gira evidentemente da questo periodo, cioè da 60 anni. Non è vero che non ci può essere una riforma dei gironi, c'è una commissione proprio solo su questo specifico tema, su un'idea di Francesco Ghirelli a cui stanno lavorando diversi presidenti o dirigenti dei club e appena questo tavolo avrà tirato fuori il documento finale sarà oggetto di una valutazione da parte del consiglio direttivo. Quindi intanto c'è una commissione che sta lavorando perché il prossimo anno i gironi siano ancora più belli e più interessanti di quelli che oggi o comunque di un prodotto di campionato che stiamo vivendo oggi in questa stagione così difficile. L'obiettivo è chiaramente… Si parlava di estrazioni a sorteggio anche dei gironi e corrisponde a verità? Ma io guarda, su questo io aspetto di vedere il documento che non ho ancora avuto, so perché ho incontrato il presidente del Palermo, Dario Mirri, che fa parte di questa commissione, che stanno lavorando anche qui per arrivare comunque a una riforma dei gironi con l'obiettivo di rendere questo campionato il più competitivo, bello e spettacolare possibile. Poi quale saranno le formule? Le vedremo da questo documento che ti ripeto non ho ricevuto ancora e che comunque sarà oggetto di una valutazione importante da parte del consiglio direttivo. Allora, ho capito il senso di scoramento e di dispiacere perché il presidente, lo dice il nome, è il presidente del club, quindi vorrebbe che la sua squadra quantomeno pareggiasse se non vincesse ogni partita. Allora, probabilmente siamo andati un filino sopra le righe, su questo non c'è ombra di dubbio, però ho capito il senso. Ho visto proprio prima di collegarmi con voi, ho visto il video, perché se tu vedi quella frase, quel contesto, sembra una cosa veramente molto tragica. Poi se tu senti anche il timbro vocale del presidente, non è che l'ha detto con una cattiveria estrema. Se però tu mi dici, avresti preferito che al posto di banda di morti, magari avesse detto una banda di ragazzi un po' distratti, ti dico assolutamente meglio distratti che morti. Allora, adesso andiamo in Serie D. Domani torna in campo con la settima giornata di ritorno, che è anche quella dello scontro diretto nel Girone F fra Notaresco e Campobasso. Sfida tutta Abruzzese, a Giulia Nova tra i giallorossi e il Pineto, mentre il Castelnuovo riceve la visita del Matese. Rinviato invece il match dell'Avastese che avrebbe dovuto giocare in questa tornata. Vediamo il servizio. Il turno pre-pasquale regala al campionato di Serie D lo scontro al vertice che vale una buona fetta di torneo tra Notaresco e Campobasso. Prima contro seconda, anche se al netto dei recuperi la squadra di Massimo Epifani sarebbe potenzialmente avanti ai molisani, che tuttavia hanno un precedente favorevole dalla loro parte ed è quello della passata stagione nel gennaio del 2020. Infatti, quando gli effetti della pandemia erano ancora una prospettiva inimmaginabile, la tripletta di Pietro Coglietti lanciò la formazione di Cudini verso un 1-3 che impedì al Notaresco, al momento dello stop dei campionati, di avere quei punti necessari che sarebbero serviti per raggiungere la Lega Pro dopo la cristallizzazione delle classifiche. Non solo quella gara fu determinante, ovviamente, ma domani l'undici abruzzese può prendersi la rivincita anche rispetto a quel precedente negativo. Formazioni che vengono da una domenica dai due volti. Quella del Notaresco ad Aprilia è stata dolce, quella del Campobasso con la Cinzia al Balonga molto meno. Sfida che metterà a confronto peraltro due squadre speculari. Il Notaresco va meno bene in casa, il Campobasso meno bene in trasferta. Notaresco che sta attraversando un grande momento di forma, imbattuto da undici partite a sette vittorie e quattro pareggi. In casa non ha mai perso ed ha subito solo sette reti e vantano la miglior difesa della Girone. Non sarà una partita decisiva, ma vincerla potrebbe spostare l'ago della bilancia emotivo da una parte o dall'altra. Il pareggio lascerebbe tutto immutato e a quel punto sarebbero le restanti giornate di campionato con tanto di annessi recuperi chiamate a fare la differenza. L'altra gara determinante della giornata è quella di Giulianova. Tra i padroni di casa e il Pineto, Giallorossi a riposo forzato domenica a causa delle positività riscontrate nell'atletico Porto Sant'Elpidio e che hanno impedito alla squadra di Leonardo Bitetto di mettere ulteriore fiene in cascina dopo il pareggio di Genzano datato 21 marzo. Il Giulianova ormai ha una fisionomia consolidata e ben riconoscibile, quella che cerca ovviamente anche Marco Pomante per il suo Pineto, appaiato con i Giallorossi a quota 18 punti ma con molte più gare da dover recuperare. Certo che il tecnico Biancazzurro però ci ha tenuto a ribadire che il Pineto non deve commettere l'errore di guardare in alto. Il passo lento della Recanatese quando ha iniziato i recuperi insegna. Emozioni ce ne sono, sono emozioni tante, sensazioni positive. Sappiamo che andiamo a affrontare una squadra secondo me organizzata, una squadra forte che ultimamente si è ripresa. Ha cambiato molto nel mercato invernale, è allenata da un allenatore esperto, conosciamo tutti e quindi è una partita dura, è una partita dura. Voglio vedere questo, voglio vedere atteggiamenti di una squadra che sa che non sta vivendo un momento positivo e dobbiamo essere consapevoli della situazione di classifica che abbiamo e dobbiamo avere la voglia di tirarci fuori da questo momento il prima possibile. Con la Vastese che vede ancora rinviato il suo match stavolta con il Castelfidardo, il programma delle Abruzzesi si chiude con la sfida interna del Castelnuovo contro il Matese. Nero Verde ancora senza Massimo Loviso che sconta la seconda giornata di squalifica così come Ferri e reduci dal pareggio senza redi di Montegiorgio. I 41 punti in classifica sono comunque un bottino ottimo in attesa di un ciclo che dopo Pasqua vedrà la formazione di Guido Di Fabio vedersela in rapida sequenza con il Campobasso al Nuovo Romagnoli e con il Notaresco al Vincenzo Savini. E con questo servizio di Jacopo Forcella termina qui l'edizione delle 14 del TG6. Il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19. Trovate i nostri servizi on demand sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Vi ricordo questa sera l'appuntamento alle 21.30 con Palla Volè. Davvero tutto, grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.